È una contraddizione pensare a cristiani che si odiano, ed è quello che cerca sempre il diavolo, farci odiare, perché lui semina sempre la zizzania dell'odio, lui non conosce l'amore di Dio. Lo ha detto questa mattina Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus, recitata dalla finestra del suo studio che dà su Piazza San Pietro. Nella solennità della Santissima Trinità ha ricordato che la vita divina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è una vita di comunione profonda e di amore perfetto, modello della Chiesa che nell'amore manifesta la sua fede nella Trinità. Una persona che ama gli altri per la gioia stessa di amare è il riflesso della Trinità. Una famiglia in cui ci si ama e ci si aiuta gli uni agli altri è un riflesso della Trinità. Una parocchia in cui ci si vuole bene e ci si condividono i beni spirituali e materiali è un riflesso della Trinità. È l'amore, ha spiegato il Papa, il segno distintivo del cristiano e tutti siamo chiamati a testimoniare e ad annunciare il messaggio che Dio è amore, che Dio non è lontano o insensibile alle nostre vicende umane. Prima della preghiera mariana Papa Francesco ha invitato i romani alla messa del Corpus Domini, giovedì a San Giovanni Laterano, cui seguirà la processione eucaristica. Al termine ha poi annunciato che domenica 21 settembre visiterà Tirana per confermare nella fede la Chiesa in Albania e testimoniare il suo incoraggiamento ad un paese che ha sofferto a lungo in conseguenza delle ideologie del passato.